buonasera sono un po' accaldato oggi potrei dire eccoci che è Marco? ho corso ho fatto due metri Marco non sei più in forma Alexa accendi la LED Alexa bravissima l'altra volta non ha capito una sega adesso ho detto la la LED e ha capito non si sa io mi sono scolato una cosa importantissima affinché una cazzo l'hai ditta mi ha detto qualcosa Alexa però non lo so vabbè non era importante ah la chat dicevo no no la chat Marco ha fatto una puzzetta no mi stavo tenendo la milza non si vede la mia faccia magnifica in questa maniera si vede solo la parte brutta oh Gianluca che spaventa che bello che sei qua con noi stasera tu sei contento di esserci? si dimmi tre motivi no no troppi troppi facciamo zero zero mi piace oh vedi si intanto c'era un oracolo da Elif o incredibile termoracolo giallo smetteranno mai questi acres di provare ad entrare nel mio account maledetti loro possiamo dirlo tranquillamente con l'està intellettuale la carne è un discorso vegano ah che in certo senso è vero perché comunque i vegani quindi certo certo vabbè dico solo cose intelligenti what the job pazzesco devo aprire assolutamente di sovra però aprivo tre eh sì ma ho un filo di mal di testa tipo che mi sta uscendo il cervello dall'orecchio non è che il mal di testa ti rallenta è un posto in realtà in realtà in realtà grazie cold grazie alla tier 3 per la tier 3 cold questo è tutto quello che posso dire dove cazzo le parole sarebbero inutili magari il cold è vero è vero no che poi arrivano quelli del caldo che dicono no io ho aspettato cinque mesi so cavodo grandi facetemelo godere dicono così sono tutti siciliani tra l'altro ah non li capisco meno male noi rispettiamo noi rispettiamo i nostri amici siciliani anzitutto ma quelli che fette il caldo no bravo Gianluca 10 grazie il caldo è la toscana del clima si può dire secondo me si può dire la toscana è bella Gianluca guarda che fan della toscana io sono un grande fan della toscana ma anche i migliori ogni tanto non capisco di un cazzo ha rovinato questo paese chi? no perché c'è questa cosa che la toscana ha rovinato il nostro paese no i toscani i toscani si si la toscana è bellissima ma io toscani mi ho conosciuti una decina nella mia vita sono andato sempre andato scusate sono sempre andato d'accordo con tu chat nominate no nominate uno di voi toscano non abbiamo guarda io c'ho la lista se vuoi te li dico subito non abbiamo tanti fan toscani c'è la lista di toscani certo io vorrei qualche fan toscano tu sei in toscano non sei toscano smettila Akira dimostrami che sei toscano Ana no che magari scrivo hai visto che sono stato bravo a non dire toscana ah no perché sarebbe stato pazzesco Marco ti hai salvato proprio non sei Nicola cioè sei non sei toscano Nicola ma poi le H non vanno lì però è toscano palese Davide men che meno Davide però è andato tante volte in toscano a guardare Marco io vorrei dire ma tutti ci scherzano nessuno è toscano per davvero o si vergognano no ma noi non abbiamo noi siamo pieni di Sardi Veneti Siciliani questa è la nostra Lombardi Siciliani e Montesi Siciliani ce ne sono lo stai facendo tutte io conosco solo Yusam Fabio Pugliesi un sacco di Pugliesi non è che ce ne sono tantissimi comunque lo sono veramente passaporto della toscanità grazie imperatore se non sai di cosa sto parlando è perché non sei toscano o toscana grazie imperatore non sei romana Pugliesi è pieno ce ne sono tanti più multesi più multesi anche Lombardi vabbè torinesi ce ne sono anche parecchi tre grandi no non sono quasi purtroppo mi tocca essere siciliano che devo farci ma tu non ti preoccupare perché sei uno grande questa era calabrese scusa mi chiuso ma parla lui che non è toscano che ne dici io sono toscano ma io sono di una parte quasi non toscano partiamo partiamo dai 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 ma che si faceva? eh boh adesso tutti insieme ci ricordiamo Scarafante più in colpo grazie bellissimo 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 allora adesso vi stremo anche qui così almeno voi non dovete caccarvi no sì ho capito ma il playwtd ah ecco quello lì ma noi tanto io voglio guardare your name mio name ah no devo metterlo di qua invece Gianluca deve partecipare perché è il mio comico preferito lo posso dire grande meno male ci speravo per un pelo allora vi metto il codice nel gruppo dei bucci ci speravo per un pelo quindi non ci hai sperato in realtà ci speravo ma però stiamo giocando un po' troppo con voi ultimamente non era il caldo che è andato attraverso un po' sì sì questo non si può dire perché Karim è il mio papà spirituale eh cos'è che vuoi ah il codice giusto sì perché l'ha scritto io non ho scritto il codice è malata è giusto ah eccolo non l'ho visto hai pensato subito via tieni forse è tutto giusto sì ho fatto giusto ah perché Yotobi dovrebbe essere il comico quindi è stato Yotobi Succa perché ho detto che Gianluca è il mio preferito ma non è un comico Karim Karim è il migliore allora Gianluca è entrato sotto poi ci sono tanti altri migliori è come Cassano che diceva zitto eh metti tanto il codice metti il codice giocate dai chat mettete il codice su eh facciamo da vent'anni ma scusami tu mi hai interrotto per dire mettete Moro aspetta aspetta tu mi hai interrotto e hai detto mettete il codice su ma che cazzo mi do su play wtt.com c'era bisogno di interrompere un discorso anche perché poi c'è un secco in chat che ha messo 4 punti di domanda per chi non crezesse il gioco lo scopo è sì c'è uno scopo effettivamente fare ridere nosotros non va il codice pensa Moro non va il codice non va il codice vai hai messo quello di Lethal Company Moro fai vedere no è giusto ah no è con no ho sbagliato una lettera aspetta c'è su 4 eh sono uguali con le lettere scusami no sta usando il pad per The Ring le dita sono fatte per quello dimmi che non sono uguali dimmi che hai sbagliato l'unica lettera vocalmente sì italico la c e la c e la k ragazzi sono identiche vero esteticamente no come suono sì ma che esteticamente chi è che legge l'estetica delle lettere viva la Toscana però mi ha bannato non posso bannare non si può bannare non posso bannare poi cancella la chat eh no ma i mod resta quindi la vabbè no no cancelli la chat no cancelli proprio resetti aspetta che trovo un emoto che può far ridere a Gianluca perché quando provi a farla ti dice lo sai che vuoi fare non la sua proprio la cancelli proprio completamente tutta la chat questa fa ridere la Gianluca vediamo dove la stai mandando in un chat eh parti intanto ah no ne mancano due no è vero sono otto o sei no sei venti che delusione parto dai let's go bisogna essere pronti al ritarello eh già no la stream è morta ma si tu a Marco ah ecco mettete il dts in italiano ecco mettete il dts in italiano sì è l'unica regola esatto a meno che se lo volete fare in inglese però fate che sia in inglese hey 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 ti senti così quando ti sei sentito così quando sei ti sei innamorato di Gene ah ok che è quella lì sul comodino immagino vedi che c'è della storia con un capace su comodino allora italiano 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 mettete tutti italiano eh si può entrare con anche potete usare l'inglese però basta scrivetemi in inglese la bosa ovviamente no mi sa prende dalla chat poi il voto del c'era il voto del c'era il voto del non mi ricordo ma si devi votare il numero in chat in chat in chat non lo mettere cosa preferiscono delle ehi popi popi chat ma ci credete che lunedì finiamo il DLC del derby ma è vero dici moro è vero o ci prendi in giro no sai che potrebbe finire potrebbe essere vero più probabile martedì però probabile lo finisce potrei finirlo lunedì sentiamo intendi seduto frank che è frank frank non è lui chi cazzo è jean ah ci ha donato un milione di sub un minuto fa dici l'amo non è così osteria si capogiro proprio vabbè non mi chiamo bob hai sbagliato stanza coglione vabbè adesso sento le farfalle nello stomaco o forse è solo un po' di liquidina no mi sono fidato del termoraculo che mi ha detto di mettere la fista go for your favorite job belle bravi si allora 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 il paio non so lo slozare è bello così ci dovrebbe essere sempre questo problema meet la prima allora vediamo un po' no questa è la got league ho sbagliato chat come? solo chat non so se è arrivato in tempo di tiro no sì secondo me vediamo questa era di l'aeron mi è piaciuta molto io ti ho dato il mio voto bella osteria si capogiro proprio di divanetto dalla toscana e il giallo io 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 Cosa per Nora? Non è stupida, sai? Darlene, credi me, tutto ciò che abbiamo planito funziona perfettamente Cosa per Nora? Non è stupida, sai? Darlene, non è stupida, non è stupida Non ti preoccupare, amore, tutto andrà perfettamente Doppiatemela Questa non è facilissima, secondo me Facilissima, Mar Basta metterci due scorreggie Eh, ma io non voto mai quelli che mettono la scorreggia o i ruti Mi dà fastidio, mi dà fastidio nella pubblicità Metti una tromba, la polizia, metti Minoni Oh merda, c'è la sirena della polizia Ah, in quel senso il piano? Eh, io l'ho preso letterale Ma no, sto scherzi Beh, però sarebbe un twist Sto scherzi Eh, Mark, in vuoto di Dado Gianluca, io ho fatto un errore Cosa hai fatto? Io ti ho detto che mi mancano tre volumi di Invincible E invece te ne mancano quattro Perché c'è anche il nono, no? Che sono gli speciali Eh, no, anche perché C'è la storia di lei che la so già Il problema vero è che se no poi c'è la scritta grossa che fa Invincible Eh, fa cagare Eh, certo, fa cagare la scritta Ma che la so già la storia sua Oh E poi effettivamente è scema Continua a non avere la sub dai termosifoni Tipo la lettinata per far funzionare Ah sì? Quindi anche quel terribile incendio con 87 morti faceva parte del piano? Ma poi l'ha detto lunghi Basta metterci due scoregge per farla ridere No, ha scritto letteralmente quello che hai detto L'importante è che non si capisca il quando messo nel come andando quindi Tranquilla Boh E allora ci sta Dario, credi me, tutto ciò che abbiamo pensato è funzionare Nora è il diminutivo di Eleonora intanto Quindi la stupida serie Ma no, non era un discorso Ma non c'entrava Eh, vabbè, però Scusami, magari Catania sarà nostra Fidati bella tettona Non c'entra Fidati Fidati Eh, ragazzi siete troppo simpati Ma con me? Io non voto nessuno Se posso invece Perché? No, facciamo Io voto la quattro Io voto la serie Voto comunque la cinque Anche se l'ha sbagliata con il contesto Però mi ha fatto ridere Intanto Intanto stai zitto Fai conta l'ultima per avere un sacco di punti Gianluca ma ridevi della tua stessa scementa Eh, andava a ridere No, faceva ridere, è vero What a loser What a loser Dai, dai, dai Recuperone recuperoide Intanto Tornas chiede il termoracolo Cinque Cosa? Il fungo va nella dieta Senza funghi Non si vive Tornas Mi piace Oh Allora, guardiamo un po' di ragazza Ah, qui è dove siamo? No, vediamo Ma gli sta facendo vedere il luogo E cosa succede nel luogo Diamo un occhio in giro Ah, qui è dove siamo? E qui sta succedendo E qui cosa abbiamo? Sì, qui sta, sì, esatto E qui abbiamo Sì, qui è dove Vabbè, comunque il senso l'avete capito Ragazzi, intanto estemperiamo un po' la tensione Cos'è che facciamo, la tensione? Ah, stemperiamo un po' la tensione A me a me piacciono i siciliani Ti becco un culo grosso Mi piacciono pure i mascoli Però Eh, vabbè Questo è Vector Un più meno la genitazione Sì Comunque Marco hai sentito? Sì, sì, ragazzi Ne ho parlato già stamattina Ne ho già commentato la cosa Gli hanno fatto tutta la squadra A Doc Alle bronche Per farlo stare sereno Non per vincere Ma per farlo stare zitto E farlo rimanere ai Lakers Dallo allenatore Al figlio Sì, gli stanno allisciando Pillo Finché non si ritira Questa è una cosa tua Non che ci sia niente di male Subito omofobo Però, Vector Non si può dire niente Non si può più dire niente Che ci sarà mai di male Ogni tanto vuoi pupparlo E ogni tanto vuoi puppare Cioè Sono cose della vita Marco, ti ricordo che tu oggi hai fatto la Totti Move Cosa hai detto? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Zitto Marco 5 5 5 5 Mettiamo quelli che contano le morti in Elden Ring Va bene No, povero Dolg Prendiamo il condimento liscio E loro lo rigano Bene Qui l'ha trovato nel libro delle barzellette più di merda Teniamo il durian Non lo aprire mai Grazie Pavo Grazie Pavo Qua stampiamo i plichi Senormadia Ma non è il senormadia Senormadia Questo è un macchinario è Bello poi Ma John che cazzo è? Cos'era? Cos'è questa? Questa qui era difficile Però Non me ne piace neanche una Allora 3 Dai Siamo 3 Sì comunque oggi stavamo parlando con Vector e gli faccio No io sono assolutamente contro l'aborto Io ho detto no No a favore Gli ho detto a favore Cosa avevo sbagliato Ma mi sono corretto subito A favore dell'aborto? Dell'aborto detto Ma l'ho detto Mi sono corretto istantaneamente E se dice di no Della porte Vediamo Sei normadia Assolutamente Sei normadia Eh già Questa è la carruccia Diciamo che nessuna E non erano 4.000 Più Di fiuta Cioè C'è 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 Divanetto Mi spieghi che cosa vuol dire Questa cosa che hai finto Facciamo a cacare Quello effettivamente Facciamo a cacare Figgato non lo serve a mettere i punti e le virgole Perché non capisce un cazzo No Chi ha vinto C'è chi viene bannato Pazzesco Solo con l'ultima Solo con l'ultima Sette Oh ma mi ho mangiato un po' di cinese oggi Chissà poi perché fa sta scelta Gianluca Hai percredibile Non possiamo kickar Gianluca Eri il mio comico preferito Adesso sei solo un comicaccio qualunque Oh no Sono diventato tossicato Non parlare per dieci minuti No basta Sono toscana Dai ti accoltellano poi Ma dove? In Toscana Cioè vengono qui Da te Ti accoltellano Comunque è di Brescia È di Brescia però Bergamo È vecchia però Mi lasciamo stare Guanluca Certo La carbonara col Guanluca E dai Guanluca Entri Eh no Non posso questo Ha scritto Guanclua Ha scritto neanche Guanluca Deve entrare dalla prossima Ma comunque No si Salta il turno Gianluca Fa la prossima Dai Sono in prigione La sua prigia Io ho messo il codice Scritto bene Chi è che ha scritto Guanclua? Dovina Chi è che non sa spiegare? È un po' oltre d'oglia È oltre d'oglia Aurora per esempio Ti direi Vabbè Quelli presenti in questo momento C'è Friggi Sono in Corea Ok Va bene Era presente Quattro oggi Vector mi ha detto La sua top 3 fregne di Twitch Me l'ha detto Non mi ricordo Vecco cosa ho mai detto Non lo scrivere I soliti segreti del capo No Non mi ricordo niente Di quello che ha detto Ma Intanto entrare a Target Berserk Nacchio Brozzorf Altri due posti O vi ammazzo Correte O vi sfondo Sì sì Marco dimmi una cosa che hai detto oggi Ma tu non stai a sentire Vector Che è deficiente Lo so sentire Non ho detto niente Sono le classiche scemenze Che diciamo io Vabbè Senti come C'è un atteggiamento Proprio da Da strano Da strano Il classico atteggiamento Cosè Da strano Proprio Oh Embe Memis Per favore Rispetto Tocca rimuovere il ban Aspetta che pago la cauzione Per me stesso Dai Entri tu Entro anch'io No non c'era nessuno Abbiamo parlato un'oretta Però io non ho visto il codice Aspetta eh Develo prendere su nella stanza Dai Ah già aspetta un attimo No abbiamo parlato della Got League Sì I giocatori preferiti I giocatori preferiti Ma ce l'hai incopiato Ma no Tu non puoi giocare Perché? Perché sennò vedono quello che scrivi E no Cioè Sanno chi Non vedono quello che scrivo Ma se non fa ridere Ah Dice che il potere Nello streaming È così forte Ah ok I redlock sono passati Felix Porta masseone Pip 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 Eccomi qua Moro92 Baign Che potrebbe essere L'erome code Sì Parto Behandicimi per l'esame di D Che così mi laureo Non è un Non è benedetto Quindi Ho messaggi molli Mi scivolano Zitto Oh C'è qualcosa di strano nell'aria Questa è carina secondo me Ah ma riparla lei però Io pensavo rispondessero loro Forse era più carino se rispondevano loro Però vabbè ci sta Quindi è una cosa che si autorisponde Loro praticamente si guardano e basta In realtà è più difficile del previsto Allora a me piacciono la Got League Conte J Pata E gli altri giocatori Belli gli altri a me piacciono Torrini Quanto sei indietro dai Adesso di me ne altri due Marco però Li so io Ma li ho guardati oggi giuro Non mi ricordo bene Il loco picci Il loco picci Ma il loco inteso pazzo? Sì No ho visto per davvero le partite C'è ho recuperato anche le ultime Adesso non mi stanno venendo in mente nessun giocatore Papelli dai Papelli Eh difficile Fratino Tritta Però l'ha detto prima Ha perso di effetto Non sentite questo profumino di palle sudate? Profumino? Profumino? Non sentite questo profumino di palle sudate? Non sentite questo profumino di palle sudate? Ossigeno Anidride carbonica Terrazzo Sgabello Grazie penguin Penguin Sembra quasi sdrogo Non sentite questo profumino di palle sudate? Non sentite questo profumino di palle sudate? non avete messo in italiano non avete messo era tipo una trombetta l'hai sentita o no si è girata allora una merda quindi cosa possiamo votare comunque posso votare anche qua? ho voto la mia chiaramente certo allora io voto la mia io guarda ti dirò sembra quasi sdrogo mi ha conquistato alla fine tanto non lo sta votando nessuno non c'è 8 per forza capello formaggio pezzo di gomma è persa che devi mettere in italiano bravo Gianluca ottimo io ti supporterò sempre 2000 punti inutili beh lo dico su tanti e più rispetto agli altri sti ma nell'ultima puoi farne 6000 no è vero è vero però già è un bel distante però posso dire non era bella nessuna no potete impegnarvi di più eh Marco le basi le basi non ho sentito no non ho visto ho dato ripeto ah ma sta zitto non c'è spazio nella nostra stanza per qualcuno che attacca la democrazia ma cosa c'entrava la school scusami beh beh in questa stanza delle classi forse entendo la classe la classe in questa stanza ok ok a posto beh questa si può ci si può ah Moro ma tu stai giocando l'ho vista adesso si bene hai preso meno di quella in inglese forza Moro pepegas avanti non scrivete pepegas come frase per favore bene 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 dai ragazzi piccolo sondaggio chi segue la got league io no va bene sondaggio terminato cos'è la got league ma la got league è una competizione del web calcistica perché è stato veloce dopo perché non so se ci stavano le tre no no stavo scherzando calcistica sono sei sono sei sono fite madonna Flavio dopo il prossimo round entri no vabbè sì ora hai fatto la battuta io poi spazio no così uno crede che hai detto io la seguo invece no pazzesco ragazzi terza media perfetto passiamo al prossimo da quanto non bevi o fai uso di sostanza ah 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 poi hai diventato una no come ti appassiato la sessione e scusami no 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 è bravo l'ha fatto con la bocca al� di strumento era got league le riMAN è giusto ma facciamo gli automatons no gli insettoidi Oh perfetta questa Porco giudo che paura Che spavento Beh, nello scantinato c'è ancora tanto spazio Dai Ma che democrazia? Noi siamo fedeli al solo e unico capo Marco Vote now or forever hold your peace E quella su El Divers è bella El Divers El Divers Però anche qui non mi avete fatto ridere C'è la voto perché è inerente Eh Marco ma è difficile Il prossimo round però tu che lo fai Ho che pretese Mi ricordo più come si gioca Che cazzo vuol dire Eh devo andare sul sito Eh vai Eh guarda Marco c'è la pietra che nasconde il braccio Chissà dove se lo nasconde Non c'è la pietra che nasconde tutto il braccio ha detto Ok Un prossimo Dreme Fantastico La gancia che è incredibile Va bene Va bene Va bene Ma se hai detto un po' Borro Borro Oh no Eh va bene adesso col final round Stai attento C'è 5.000 punti di distacco sul primo Aiuto aiuto Harry è caduto qua È scivolato è caduto È qualcosa animato però È raro che esco Meno male che non ne vediamo ancora No però è vero Ed ha colore incredibile E però chi risponde Sempre lui Sì Non è detto Continua a parlare lui Continua a parlare Eh sì per quello C'è lui che continua a muovere la bocca Fatemi vedere un attimo se ho lo scorofo Ah domani Pomeriggio Intanto Stiamo aspettando Noi pomeriggio Visto che ci ha aperto l'Italia Vediamo se ci troviamo Su Discord ancora Comunque Come al solito Stanza subscriber 2 Se volete Se vedete Che c'è qualcuno lì che stream Potete entrare tranquillamente C'è un hack Comunque amici è vero Oggi è uscito Slumdunk The First Esatto fate il giveaway Mi raccomando che finisce domenica Se avete il Prime Video Potete vedere Slumdunk Tutto? No Il film Ma il film è tutto? Non credo Il film è tutto Non so se però è a pagamento o no 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 È proprio sulla piattaforma Otter Muracolo Come andrà la maturità? Vediamo Per uscire ti servono i piedi Inanzitutto Ma sei così piccolino Jaff Magari Ma magari chiedeva in generale No oppure Sei stato bocciato 10 volte Magari sei O magari fa il professore Ah beh Il professore Zaff Ma noi ci servono anche i ragazzini Sì 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 Dalle a tuo corpo Allegria Macarena Vai a prenderlo Ma fai attenzione La discesa L'ha fatta Miyazaki Un piccolo acritti Dal The Ring Poco fa aveva detto Che bello Il parkour Dei Souls Anche qui Ritorna Help Harry è sotto In mutande è caduto A quanto pare sì Si risponde da solo Help Harry è sotto Marco C'è lo spinaccio Ne aiuto O ha madredizione Help Help Harry è sotto Scusami se ho urlato così forte Tutto bene Jack Io sono stanco Comunque è 2005 Eh vabbè Ma anche Brozolf Ci sono Non credo sia 2005 Brozolf 2004 Siamo lì Mamma mia I poppanti Manca gare tutta Allora Però mi è piaciuta La cosa Delle Delle Talk Company Dai E 2003 Ah vabbè Cambia tanto Mi dissero Mi dissero Ma perché Jack Possiamo bannare Anche in questa Ma che palle Eh no Che palle Perché E perché arriva Moro Ultimo Quindi Eh ma uno a testa Adesso entra anche Marco Adesso arrivo ultimo Anch'io Un primo e un ultimo corpo Mi impegnerò Per arrivare ultimo Posto Non corpo Sbagliato Madonna il caldo Eh Mario Ero principiante Ma tu hai la villa Fatti il condizionatore C'è là il condizionatore Ah posso Che vuole Eh ma non lo sto accendendo Perché Eh L'abitui troppo Piesso Poi Eh esatto Dai Marco Entra A vedere qual è il codice New faces New clips Same great dubs Welcome folks Ecco Pi 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 Grande rappresentante No non mi ricordo La password De chi Grazie No il token È rientrata Che ha chiesto Giocato Come il token Non ti fa Accette Via Posto così Eh ma mi chiede il token Dove mai Eh ma non me lo sta mandando Però sbrigati Ma no mamma Avrai Non c'è l'authenticator Scusami Eh Cioè sì però Ce l'ho l'authenticator Eh allora per forza Non è che ti manda niente Eh ma allora Cosa devo fare Mi chiede il token Marco ti hanno suonato Mi sa che te lo stanno portando A mano Non a mano suona Neanche a me Suonato da te Gianluca Gianluca Mi ha avuto la Che ne sono adotta No è impossibile Che suonino da me Cioè è possibile Io non sento Con le cuffie Quindi è impossibile Non sai quante volte Che Eh ma quindi Cosa devo fare Non mi sta arrivando niente Non c'è l'authenticator Perché Eh sì però L'authenticator Non ti deve arrivare nulla L'authenticator C'è il codice Nell'authenticator Eh ma forse L'ho disinstallato L'authenticator Perché mi aveva dato problemi Eh perché mi aveva dato Mi aveva dato problemi Ma quello di google No avevo cambiato Perché quello di google Mi aveva dato problemi Non mi salvava le cose E avevo messo Quell'altro che mi aveva Outy Cioè Perché mi aveva dato problemissimi L'authenticator E Luca aveva avuto Il mio stesso problema Quindi mi ha consigliato questo Una volta c'era solo Outy Su Twitch Ok in teoria sono entrato Ti metto il codice Ero dimenticato completamente Come si chiamava Meno male che ho switchato Nelle app L'ho visto Bo Entrate più re Ma Outy scritto Ah U-T-H-Y Sì Mi pare È uguale a google Perché questo mi funziona L'altro no No senza l'h È vero È Outy No c'è l'h C'è l'h Mi pare di averla vista In fondo? Sì No la penultima è l'h No è allora No no è con l'h Sì no Outy con l'h No speravo fosse in fondo Dopo la Siete ciò È stato dei Prudor Dai partiamo con questo round Fammi ricordare di mettere in italiano Oh è vero anch'io Perché prima ho messo lo spagnolo Per Macarena Roundone Parla sempre lui Prestate il mio orecchio E cosa sentite? E cosa sentite? E ditemi cosa sentite Esatto Sentite proprio Si sente la musica Quindi Eh ma il nome della musica sarà Chiaramente No poi lui riparla Poi lui riparla È ben miglioria Prestatemi orecchio Nel senso ascoltate Sì sì Prestate orecchio Si dice italiano Oh no Perciò l'italiano A me era già in italiano C'era scritto sotto italiano Ma la fa sentire la musichetta Mi sta dando fastidio In italiano potrebbe essere anche tipo Orecchie a me Però è un po' più desueto E' un film in bianco e nero degli anni venti probabilmente Quindi Oh Vabbè frigi non è così Ho già fatto altre partite Il divanetto? Non è davvero dentro Perché no? Si è rotto tutto Ma quello lì c'ha un computer Veramente del pippo Dovremmo riuscire a rientrare Però comunque Adesso magari qui non riesce Beh poteva capitare a chiunque Però guarda caso Uno che abita in Toscana Confermo Vedi provare a di chiudere il browser E riaprirlo E cosa ti usi? Esatto Dai è di tacco Dai è di punta Non era quella No Esatto La pizzica di San Vito Sentito che cagata Vabbè Sono arrivate le torrette per la run di Lethal Company Sentite la poesia di Trucebaldazzi Non era Trucebaldazzi La piu' bella è palesemente la tre Che non è la mia È vero che gioca anche Marco Già No non è la sua No no Molto divertente la pizzica di San Vito Io ho votato la pizzica di San Vito Sono più fan di Dai è di tacco e dai è di punta Grande E io devo arrivare ultimo No è impossibile ce li ho detto E infatti Beh magari entro Chi è? Prenderò le costolette di agnello Ah no Ah è prendo Vabbè sì Dell'agnello E poi risponde lei Prenderò dell'agnello Prenderò dell'agnello E poi dice lei Ah Actually Marco hai già risposto con una cagata No ce l'avevo già in testa mentre leggevo Certo Fidratevi di me Provato dal telefono divanetto Actually In realtà non è un agnello Poiché questo non è un agnello La frigi Può anche essere Grazie Draco Molto gentile Molto gentile Sei fissato con questa cosa del matrimonio Tu comunque grazie mille Grazie mille Adesso dobbiamo aspettare questi 30 secondi di divanetto Che non c'è Seduti sul divanetto Possiamo bannarlo così per sicurezza Non credo risolva la situazione purtroppo Il divanettone come mai ha questa bandiera dell'Albania Cioè dovrà trovata In università l'ha rubata Non te l'aspettavi eh Marco No me l'aveva già detto in realtà Mi è venuta in mente poi quando l'ha detto Eccoci qua Vediamo Ciao Brumano Io invece prendo un galattico col parmigiano Chi è? Cos'è quel galattico? Io prenderò una bella pizza ai tre ingredienti Cos'è? Un po' Ma siamo in gelateria scemo Questa è qui di Marco Ecco Che cazzorino Quale? 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 Ragazzo Portaci una perzione di patatine con kochak e maioe Con kochak? Con kochak e maioe? Una perzione? Come kochak e maioe? Una perzione di patatine con kochak e maioe? Ma questa deve essere una citazione a qualcosa per fosoma che non può essere scritta di merda e basta Io devo votare vero sono padrone della mia pelle Ma una perzione di patatine con kochak e maioe? Non la voto proprio per una questione di principio la 5 Vabbè se è una citazione ok Però Se non è una citazione se sono errori grammaticali è un problema Crest che aveva messo il link direttamente dalla citazione Ho idea Mia Marco ha votato A Grazie Ah sì È la citazione Ah sì l'ho vista È proprio quella Sì la citazione Grazie a Crest per aver messo il link YouTube Anche se non si può Però grazie mille per la... Vabbè la vediamo Vabbè la vediamo Vabbè la vediamo Già finito? Mi stavo... Final round Ah Marco impegnati Aspetta Questa è la Johnson Station 66 No questa è Jonathan dalla stazione 76 Ah ok scusami E non ho bevuto Ah Grazie Crest Questo è Johnson alla stazione 66 E non ho bevuto Chissà cosa ha visto Qualcosa di grave Qualcosa di grave Grazie Crest Comunque Sto sentendo un attimo La citazione un attimo Però anche una piccola Frangata di Di cosa che ma è Che buono il coach hack Marco ci ha andato pensato eh Ho visto Ho visto Ho visto dell'impegno In realtà L'ho scritta subito Ho aspettato Per vedere se poteva andare bene Allora Adesso mi chiede La pronuncia Ragazzi Ragazzi Ma non devi sentire niente Giallù Sì Distrai Che dite Siete proprio degli uomini base Senti la sinfonia Sì Eh ma Friggio Trivello Che è un piacere Chi? Chi? Oddio Madonna Esatto Gianluca Che fatica Discrizione di T Praticamente E poi Alla fine Scoperto Che comandi Mi piace Mi piace C'è Miyazaki Che dice di voler fare Un secondo di LC Più Toeto Più Toeto Più Toeto Mi trovo ad Amalfi A Melfi Vabbè insomma Sono a Stemio Certo Come va raga Tutto bene Grazie Cresto Cresto Grazie mille Ben arrivato Sono soddisfatto Di com'è venuto Gentile Gentile La una è particolare Mi è piaciuta Sono soddisfatto Senti Io sono soddisfatto Dai Ci stava Sono a Stemio E quindi Non puoi dire Non devi influenzare No no Volevo votare quella Ho cambiato il mio voto Marco Non devi influenzare Ho cambiato Marco Ho cambiato Tramai è tardi Non si può cambiare così Secondo me Marco Era bella Andava fatto proprio Adesso vi do la definizione Di Astemio Eh no Perché poi dice E sono E non sono Non era descrittivo Ma Lega Non ho mai detto Di votare Lega Ecco qua C'è lui L'ha pure votato Io sì La votata Ma fattore Quella di Gianluca Mi è piaciuta Perché è molto particolare E ci sta Io ho votato Quella di Bers No di Gianluca Eh sì Io non mi ricordo Questa che mi ha fatto Cambiare Marco Avrei votato Eh quella di Marco Era bella Berserk Vabbè L'ultimo è di Vanetto Però Vanetto va Chi è il penultimo Chi va cacciato Quanto sono io Non lo so Ci sono ancora io Poi ha scritto 07 Che non è neanche io 7 Cioè Cosa sono i due punti 07 Chi è che è arrivato Per un Sir C'era un oracolo Di Tonatz Ho colorato Tramoracolo giallo Domani compio gli anni E faccio 32 anni Illuminami Con una tua frase Da dire Alla mia famiglia E parenti Documentati No Non si può sbannare Quello No Non si sbanna Si può sbannare È la penitenza È la Tenete Come? Eh come? ULETTEL DOG OUT Ti ha lasciato Uscire i cari Rimborso I punti Aspetta Fammi rimborsare Il punti La volta Che cazzo Ho sentito Scusa Che si Incompensa Che la seconda Fai Marco? Malfi Pagala Cosa ridi? Cosa ridi? Malfi Pagala Prego Enterate Enterate Ho perso le orecchie Marco Ma grazie Non sono stato io Può rientrare Se ce la fai Sì Ragazzi vi ricordiamo Tra l'altro che ci sono Quelle iscrizioni A Fantasodio Potete ancora partecipare Voi iscrivetevi In caso non si ducisse Il campionato inizierà Il 18 agosto Sì inizia presto Come quest'anno Era il 19 Pi che altro Se poi non si riesce a formare Un ultimo campionato Verrete rimborsati Tranquilli Quindi se volete partecipare Iscrivetevi Avete ancora un mesetto Un mesetto e mezzo Intanto Stanno partecipando Qui alla Incredibile What the Dup Target Nacchio Brozorf E Friggi Se dovesse mancare Poca gente Permetteremo magari Alla fine A qualcuno Di regalare L'iscrizione A un altro Però devono essere Agenti fidati Cioè Agenti chimici Anche un po' Si parte ragazzi Silenzio Siamo una razza di umanoidi Come puoi vedere Siamo una razza di umanoidi Non posso giocare Ci verrà 100.000 Probabilmente In ultimi due Tre settimane Passeremo a 500.000 Quindi magari Riuscita Ci vuole Ti butta fuori E dice la stanza Oh no Hai divanettato Mi dice che c'ho problemi Con la stanza E dai No mi continua A dare l'errore A prescindere Da cosa È l'altro Che non si può Bannare Ma perché Il codice era questo qui E mi sa che caccato Addosso il sito oggi Anche perché Ho giocato Tranquillamente Prima Boh E non posso Niente Non si può giocare Adesso provo Da te Faccio il contrario Dici che cosa Avresti messo E non Non ero attento Scusami E non Stavo pensando lì C'erano delle persone Diceva Ah Come puoi vedere Siamo umanoidi Ma siamo diversi Da te Siamo fuori di testa Va bene Forse è meglio Che ti sia cacciato Avrei messo anche io Bellissimo Grandi Irene Meno male Che non si può votare Hazzu Hazzu Mi sono rotto le palle Anche da telefono Non posso neanche votare Gli altri Eh no Quando ti butta fuori Forse perché Non ho la maschera No Noi usciamo Nelle ore Più calde E beviamo Solamente Degli sciottini Di acqua Solamente Noi abbiamo un apple vision pro integrato Non è vero Umanoide 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 E questo chi è? Lo hai capito che siamo fuori di testa Ma diversi da loro Siamo il cazzo di Mane Skin Non abbiamo ritegno Non ci conteniamo Siamo delle bestie Molis Hai fatto un gaso Hai fatto un gaso L'ho sentito Molis Molis Mellinos Molis Mellinos La quattro Comunque Vediamo un po' Ottimi sciottini d'acqua Sì Luca Sto saltato Hahahaha No dumps Ammitted Hahahaha Hahahaha Era bello C'era Sì Sì Ciao figliolo Stai andando da qualche parte? Fai red di cera Sì Molto libera Come dicevo prima Ma che 40 anni Basta di fare due punti 07 non esiste Kid La fine cos'è giovanotto Cosa succede Sara? Non so se intende come figlio o No ma figliolo si dice figliolo si dice un poco di Rhodes Sì 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 anche un poco di Rhodes Attuale Sara Quidd è stata purtroppo gattata sulla tastiera Sì O Nictus Però una faccina è stata fatta Però la faccina è giusta Quindi Eh però Eh non Vicino Gianlucozzo Il nostro Sazamusein 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 Quello con i poteri Sazamusein Che indovina No io penso che indovina Sto le canzoni Solo quelle arabe Sto ascoltandolo No il trattino a sinistra è più alto di quello a destra Che fastidio Perché? Non so Perché ha fatto maiuscolo Perché uno è il meno e l'altro trattino Però è la stessa cosa Quindi è una faccia tipo The Rock Eh sì Allora è voluta Ma se sono una pianta Dove vuoi che vada? Come? No sto comodo qua Nella fica di tua sorella Ti darò un Che ce l'hai un euro Fatti i cazzi tuoi Uomo di carne Che cattiveria Io avrei votato Io avrei votato due Ancora? Vota in chat No non posso Ma come no? In chat si è Sono un'entità Sono un'entità È vero È tutta l'estrema volgarità Di tutto in realtà Soprattutto della due Ah Hai fatto un gasso Hai fatto un gasso Mi ha tolto la chat Io non ce la faccio più questa sera Allora La tecnologia Mannaggia Io devo fare il contadino Che schifoso che sei Fai cagare Fai Ti darò un nipote Tra parentesi È divertente Target Vedi che È quella di papelli Vedi che Madonna Gianluca Come qua Gli altri sono Ancora equilibrati Bravo Di Gianluca Non ce ne informa È un'altra Basta l'ultima Ma sembra che stia Facendo il pene col bastone Per un attimo Ero Guarda Guarda Eh Lo sai Ma hai fiardo colms Sai Cosa sto pensando Mi sa che Watson hai fiardo colms Grazie Arrendo allora scrivo la frase io lo vedo vi ricordiamo che domenica alle 20 come sempre c'è l'ultimo episodio dell'eliminatore della battaglia delle sigle è un ultimo episodio totale ma è l'ultimo dove avrete le sigle esclusi non avete ancora sentito perché poi l'ultima serata sono tutte che avete già sentito mi raccomando amici siateci domenica che è importantissimo c'è la categoria incredibile che sarà fighissimo le canzoni pornografiche italiani italiani in tutti i censurati eh no eh in italiano devi censurare per forza devi mantenere lo spirito di quel periodo beh tanto ci sarà una nuova versione di è il divers il divers quindi se faccio meno punto trattino stavo leggendo i commenti dell'ultima puntata bravo però bravi commentate anche in pasta amici sentiamo quasi quasi te lo infilo non è quello che pensa watch siamo a luglio come cazzo ti vesti anche lui a tua sorella diventerò suo nipote non diventerò suo nipote alla fregna va che roba che se alzo il bastone il bastone si alza effettivamente un insegno un insegno sì amici lo ricordo anche qua in live e un ragazzo ha scritto che colpo di genio mettere la pubblicità tra le sigle ragazzi vi ricordiamo che noi non possiamo mettere la pubblicità nel video è free è per voi ma noi non ci vediamo una sega c'è probabilmente una pubblicità per ogni sigla perché ognuno monetizza la propria esatto non stiamo guadagnando un euro da questo stiamo facendo perché è divertente e basta quindi vediamo i votazioni anche io avrei votato friggi però col seno il fatto è che non si può neanche bannare il penultimo perché è Gianluca quindi il terzo ultimo è Moro? no ti immagini il sest'ultimo tocca bannare il sesso stessi cantando Rosso stavo cantando Rosso cosa che ho perso ragazzi oh no è andata così che ci dobbiamo fare guaglione c'è sto amici ma domani Moro può riposare che bello Moro il relax stanotte riposa anche stanotte non lo fa il Moro by night non si può fare Moro non farà il derrick Moro non voglio che fai il Moro non lo faccio il derrick però lo faccio non voglio che fai il Moro by night ma lo faccio no devi dire il posale adesso basta ma lo faccio che ridiamo una cosa di chill non esistono giochi chill è una bugia che ci diciamo noi streamer per rendere chill Marco il mio stress stasera è a 51 con What the Dub dove non giocavo vuoi sapere a quanto era oggi mentre giocavo al Derrick? 150 no era molto meglio stanno tutti lamentando che fa cagare in realtà questo DLC di Elder Ring ma non mi farò non mi pare prof ma chi? è troppo difficile ma veramente sono incapaci non hai le mani sì come quello che si è portato ho visto solo voti negativi vai rediamo Mario Stupiolo si sa è arrivato in circo in città non è vero comunque l'unica recensione negativa rediamo Mario Sturgnolo e via ma poi lo sposo no scusate questa è una cosa assurda io la Sturgnolata la rideerei no ma Mario Sturgnolo no l'hai detto adesso ci prendiamo la responsabilità aspetta questa faccia adesso ci prendiamo se non fai Derrick altrimenti non si può sta facendo Just Parling e poi fa Metal Gear Moro pazzesco toccare da sì fa il finale di Metal Gear Solid c'è scritto dai però alle 23 mica le 21 sono dai adesso sta parlando dai lo rideiamo veramente dai per cambiare via tanto sto vedendo lo rideeremo un po' sempre gli stessi almeno cambiamo un po' ho fatto quit oh a posto chat ci vediamo questa notte a mezzanotte se non sono morto